Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere venuti e aver accettato questo invito, venuti così numerosi, vi do un paio di informazioni di servizio, ci saranno attestati per tutti coloro che sono presenti alla fine della conferenza di distribuire, chi di voi si è iscritto attraverso la piattaforma Sofia riceveranno lo stesso attestato, in più c'è il foglio firme che sta girando, c'è la nostra collaboratrice che lo sta facendo, prego accomodatevi se siete nel posto giusto? Sì? No? No? Va bene, comunque benvenuto. Allora, ciò detto, durerà circa due ore questo incontro e lo gestiamo attraverso una presentazione del dottor D'Aloiso a cui tra un attimo lascio le parole e attraverso un'ultima fase di dibattito, discussione, domande, risposte, quali che vogliamo. Per le 5 chiudiamo il pomeriggio. Allora, io porto, sono il professor Zadri, sono vicepresidente del Dipartimento d'Usi che prima di tutto porto il saluto del Dipartimento, il Dipartimento di Discipline Umanistiche Sociali delle Imprese Culturali che è attivo su vari fronti, fronti che includono anche il lavoro che facciamo a livello di Dipartimento dell'Ateneo in ambito plottodidattico, quindi con tutti quei temi che riguardano l'apprendimento o acquisizione della lingua e l'insegnamento a svariati livelli e in contesti diversi. La lingua che può essere una lingua 1, la lingua madre che può essere una lingua 2, l'italiano di stranieri in Italia, una LS, la lingua straniera, l'inglese che si impara qua, un'altra lingua straniera. E tutto questo negli anni ci ha portato a confrontarci sempre più con tematiche estremamente, estremamente, diciamo così, alla pari, alla moda. Non pare proprio non strategico parlare di temi alla moda a un pubblico di persone che insegnano nella scuola dove le mode passano molto velocemente, un tempo qualche solo. Un lustrofano di moda di studenti stranieri, poi sono diventati di moda e di SA, poi di BES, poi e via. Di moda in moda si rischia di non trasformare in trasferimento di conoscenza ciò che una disciplina come la nostra e un contesto come il nostro, quindi non solo l'autoridattico ma diverse altre discipline accademiche, vanno elaborando attraverso un confronto costante con chi sta in prima fila col mondo della scuola. Restituendo nel momento in cui prendiamo dati, prendiamo elementi dalla scuola. Abbiamo anche il dovere epistemologico, oltre che etico, di restituire e quello che possiamo restituire, cerchiamo di farlo come oggi. E lo dico con estremo piacere e onore, la possibilità di invitare qui Michele D'Adoiso, che è direttore del gruppo DEAL, che da animi lavora sulla didattica speciale, pur venendo da un ambito e rimanendo in un ambito estremamente legato alle lingue, e alla didattica delle lingue. Siamo della stessa parrocchia, nel senso che tutti e due con trascorsi da studenti e dottorandi a Venezia e il rapporto tra Parma e Venezia è sempre stato, è rimasto molto vivo, tant'è che diverse delle attività del nostro laboratorio di l'autoridattica sono sempre state incontrate con Venezia. Il professor D'Adoiso insegna in diversi ambiti, in diverse discipline, dall'ambito dell'italianistica sulla lingua, all'ambito della lingua inglese, su lingua traduzione. È attivo da tempo, anche se è molto giovane, su ambiti di ricerca abbastanza trasversale, ancora una volta, che vanno dalla didattica della lingua italiana alla didattica della lingua inglese, ricordo un suo lavoro iniziale sulla storia dell'arte e English for the arts. Ma soprattutto ricordo, e molto con grande piacere, i testi di cui l'ultimo per l'Oxford University Prize, premiato a livello mondiale come libro migliore per l'innovazione della didattica della lingua inglese. Non sono due che insegnano inglese in giro per il mondo e che scrivono nel 2017, quindi è con davvero grande piacere che gli cerco la parola per toccare un tema difficilissimo, un tema che nessuno vuole trattare, anche perché, giustamente, come si diceva, è abbastanza inutile arrivarci dal fondo. Perché valutare in maniera diversa i DSA nel momento in cui non gli insegno in maniera inclusiva, a me rendi. Però non voglio spoiler nell'inglese, buttar via quello che ci racconterà perché tanto lo so direi molto meglio di me. Grazie mille ancora una volta e a te. Allora, mi è stato chiesto, buongiorno a tutti, mi è stato chiesto di parlare senza microfono e quindi verifichiamo un attimo. Siccome c'è una registrazione, se io parlo senza microfono voi riuscite a sentirmi tranquillamente, ma anche vado in maniera diversa, senza voce, ma non è qualcosa di grave. Sabato è qui, recupero il sabato e la domenica. Allora, beh, grazie al collega Marco Mezzate che mi ha invitato. Sono molto contento di essere qua a parlare di un tema che effettivamente di solito non amo affrontare perché, come dire, appunto parlare di valutazione senza parlare di didattica è sempre un po' strano, cioè è come quando si va in viaggio si vuole parlare della meta, ma non ci si pone il problema di come si arriva a quella meta, che macchina si prende, che si prendono i mezzi, quanto tempo ci si occorre per arrivarci. E quindi, come dire, cogliamo quello di cui parlerò all'interno di questo contesto, un contesto in cui si parla di valutazione, ma si dovrebbero fare considerazioni preliminari sulla didattica, cioè su come si può costruire una didattica inclusiva che possa poi aiutare ad arrivare alla meta della valutazione. E questo non è per nulla banale. Questo è il percorso che noi faremo oggi. Sono tre tappe. Partirei da una breve introduzione su quali sono le barriere che incontrano normalmente gli alunni con un DSA nell'apprendimento di una lingua. Questa introduzione ci serve per capire poi un po' il contesto, come dire, di teoria, entro il quale si colloca anche il lavoro che svolgo con il mio gruppo di ricerca, e capire come si può, ad un certo punto, iniziare a parlare di accessibilità nella valutazione. Ci daremo alcune coordinate. E nell'ultima parte, a seconda del tempo a disposizione, io vorrei lasciare uno spazio, appunto, anche alle domande, ho anche una serie di esemplificazioni, di considerazioni che si possono fare parlando appunto di valutazione degli apprendimenti linguistici degli alunni con DSA. Allora, prima di iniziare vorrei appunto verificare nuovamente che ci funzioni l'audio, che mi sentiate tutti, così posso iniziare. Allora, quindi il punto 1, barriere all'apprendimento che sono dovute ad una differenza evolutiva. qui trovate uno schema, uno schema che ha due parti. Da una parte le barriere che si possono incontrare nel momento in cui io ho un disturbo specifico dell'apprendimento, e dall'altra il contesto. Questa è una cosa molto importante. Perché? Perché non stiamo parlando di apprendimento linguistico in un contesto spontaneo, ma stiamo parlando di apprendimento linguistico in un contesto guidato. C'è un contesto in cui ci sono delle figure specializzate che sono gli insegnanti, c'è un contesto didattico, ci sono dei materiali, delle scelte metodologiche. E quindi parlare di differenze dello studente e di problemi dello studente, passate mille virgolette, senza parlare dei problemi del contesto in cui lo studente è inserito, è perfettamente inutile dal punto di vista pedagogico, di glotto didattico. E quindi, insomma, questo è un punto molto importante. Vedete che ci sono due livelli. Ho distinto le varie barriere che si possono incontrare nell'apprendimento linguistico, che un alunno con DSA può incontrare nell'apprendimento linguistico. Le ho distinte in due ambiti, l'ambito procedurale e l'ambito strategico. Sappiamo che esistono due modalità di apprendimento. L'apprendimento dichiarativo e l'apprendimento procedurale. In grande sintesi, scusate se banalizzo un po', ma l'apprendimento dichiarativo è quello che si manifesta ad esempio durante un'interrogazione, quando lo studente è in grado di ripetere, di verbalizzare alcune informazioni che ha in qualche modo assimilato attraverso uno studio volontario. Grande banalizzazione, però ci siamo capiti. Esiste però un'altra modalità di apprendimento che è quella tipica dell'infanzia, per esempio, ma anche degli adulti in alcune situazioni, che è quell'apprendimento appunto di procedure, quando impariamo a fare delle cose e non necessariamente le sappiamo anche ripetere. Ad esempio, come abbiamo imparato ad andare in bicicletta? Mica abbiamo, mica ci hanno fatto un corso di alta specializzazione, non abbiamo mica preso un master in psicomotricità della bicicletta, ma che cosa è successo? Abbiamo fatto pratica e attraverso l'esercizio, attraverso l'attività abbiamo acquisito una competenza. Allo stesso modo abbiamo preso la patente, perché è vero che c'era il corso di teoria, però senza la pratica. Alla fine l'esame era una pratica, no? E quindi, come dire, esiste un nucleo di apprendimenti che sono di natura procedurale. Tra questi c'è l'apprendimento linguistico, che non è una conoscenza teorica delle regole di una lingua, ma è un uso delle regole in un contesto spontaneo di comunicazione. Quando io so una lingua, la so fondamentalmente utilizzare. Dopodiché, ad un livello più astratto, posso anche ragionare su questa acquisizione, su questo apprendimento, posso ragionarci e posso anche riflettere sul sistema linguistico che ho acquisito. Ma quindi, come dire, da un punto di vista procedurale, noi sappiamo che, dalla ricerca clinica che è stata fatta, sappiamo che gli alunni con DSA presentano alcune limitazioni, che ho riassunto in tre punti. Vedrete però che per ogni limitazione farò delle considerazioni sul contesto per fare un parallelismo. Primo aspetto, l'analisi fonologica. Sappiamo che esiste, che molto spesso il DSA ha una base fonologica. Che cosa significa? Significa è quella capacità di, come dire, ragionare astrattamente sulla struttura fonologica di una lingua, perché questa è una base fondamentale che ti consente poi di imparare la lettoscrittura. Ad esempio, i bambini di 4-5 anni di solito a un certo punto imparano che male e mare hanno la stessa parte iniziale, oppure che casa e, non so, adesso non mi viene in mente un'altra parola, comunque ci sono delle parole che fanno rima tra di loro, no? E, come dire, imparano, questa cosa la imparano spontaneamente attraverso la, così, la interazione dentro l'ambiente. Questa competenza, che viene chiamata consapevolezza fonologica, consente poi, quando ci si accosta al codice scritto, che è un codice dove c'è una relazione tra lettere e suoni, consente di imparare a leggere. Ora, perché è importante questo aspetto? Perché quando io imparo una lingua straniera, e mi riferisco ora in particolare all'inglese nella scuola primaria, la domanda è, ma viene fatto questo lavoro di, come dire, di sensibilizzazione fonologica in una nuova lingua ai bambini prima di accostarli al codice scritto? Ho la fortuna di lavorare nelle scuole primarie attraverso dei progetti glottodidattici e una realtà è che molto spesso i bambini arrivano alla fine della prima e che già hanno, per esempio, quaderni pieni di parole scritte, parole di cui non conoscono la struttura ortografica, ma semplicemente le hanno trascritte senza riflettere su cosa quella parola voleva, come dire, che caratteristiche ortografiche aveva. Quindi hanno sullo stesso quaderno una parola come pink, che è una parola ortograficamente trasparente, e una parola come white, che invece richiede un livello di astrazione molto alto perché non c'è una corrispondenza tra suoni e lettere. La W non si legge, la H non si legge, la I si legge AI, la T si legge e la E non si legge. Come dire, è una parola che un bambino impara a scrivere ma non ne ha una coscienza fonologica, no? Quindi un primo aspetto da considerare è questo. Aggiungo un altro punto che invece è il secondo, ed è la questione della memorizzazione. Noi abbiamo un sistema di memoria complessissimo, non abbiamo una memoria ma tante memorie e sicuramente un aspetto che è stato appunto messo in evidenza dalla ricerca clinica è che gli apprendenti con DSA presentano delle limitazioni nella cosiddetta working memory. Non tanto, come dire, nella memoria a lungo termine intesa come memoria episodica o memoria semantica, però ancora prima la working memory, cioè la capacità di trattenere alcune informazioni di base per un arco di tempo limitato per poterle riutilizzare subito dopo. Per esempio, se vi strisciano la macchina e dovete capire al volo chi lo ha fatto, dovete memorizzare la targa di quella persona e dovete ricordarvela all'istante per poter poi trascrivere i dati. Esatto, qualcuno fa già così perché la working memory si deve anche un po' allenare, non è così scontato, però in quell'istante voi avete attivato la working memory. Pensiamo alla scuola e pensiamo a quanto carico cognitivo c'è nei compiti che proponiamo, ma non tanto e non solo nei compiti, ma a volte anche proprio nelle istruzioni che si danno a monte. Faccio un esempio banale. Adesso apriamo il libro, andiamo a pagina 37, facciamo il secondo esercizio in fondo a destra. Ecco, questo tipicamente accade, una consegna solo orale che in realtà andrebbe segmentata in otto consegne diverse perché è matematico che il 90% degli studenti si sono persi. È matematico che un alunno che ha una fragilità nella working memory non ha trattenuto le informazioni necessarie per poter poi anche semplicemente andare alla pagina giusta del libro. Quindi attenzione al carico cognitivo che, e qua faccio una piccola provocazione, nel caso delle lingue straniere è anche doppio perché alcune volte alcune procedure che noi proponiamo, ad esempio per l'insegnamento grammaticale, sono come dire il contrario di quello che si farebbe in natura. Faccio un esempio. Tipicamente noi, un bambino arriva alla prima elementare che ha imparato a parlare abbastanza bene e si può iniziare con questi bambini un lavoro di analisi del linguaggio a partire da una competenza pregressa. Per cui i bambini imparano cos'è un nome, che cos'è un verbo, magari attraverso delle frasi di cui i bambini conoscono già i significati e possono riflettere quindi sulla struttura a partire da una competenza. Ma questo tipicamente in lingua straniera non avviene, per cui di solito si presentano delle regole di cui lo studente non ha esperienza e quindi c'è un carico mnemonico spropositato perché tipicamente alla regola aggiungo subito tutte le eccezioni possibili immaginabili e poi tutti quegli esercizi possibili immaginabili che possono in qualche modo, dal mio punto di vista, cercare di far fissare quella regola. Quindi sicuramente c'è un nesso tra il carico cognitivo che richiedono alcune pratiche comuni nella gloto di Dassi e le difficoltà di memorizzazione che possono avere questi alunni. Ultimo punto non scontato, l'automatizzazione. Siccome abbiamo parlato di apprendimento procedurale, abbiamo parlato quindi di un fare, di un apprendimento in qualche modo di procedure. Ebbene, alcune di queste procedure, nel caso di un DSA, presentano delle limitazioni nell'automatizzazione. Che cosa vuol dire in sintesi? Quando io ho imparato ad andare in bicicletta, ad un certo punto ho iperimparato. La parola chiave è iperapprendimento, overlearning in inglese. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando vai in bicicletta mica devi pensare ogni volta come si va in bicicletta. Adesso quando voi state prendendo appunti, che è una delle abilità più complesse, e lo state facendo in italiano, peraltro. Lo sottolineo perché la state facendo nella vostra lingua, se siete madrelingua italiani. Ebbene, la presa d'appunti è una delle abilità più complesse perché richiede processi cognitivamente molto elevati, ma anche abilità di base che, per esempio, la collega mi dice, per esempio questa qui, cioè il trascrivere che voi date per scontato. Non ci pensate al fatto che, perché sapete scrivere, no? Però la scrittura intesa come codifica è qualcosa che in un alunno con DSA può non essere automatizzato. E quindi sappiamo per la ricerca clinica che nell'inquadramento dei DSA si va anche a vedere il grado di automatizzazione di alcune procedure, che sono ad esempio la decodifica del testo, cioè la capacità appunto di decodificare il rapporto tra lettere e suoni, così come il, ad esempio, la codifica, cioè il processo contrario. C'è però anche un filone di ricerca, molto, come dire, che ha una base all'MIT, che sostiene che questo deficit di automatizzazione sia anche più vasto e quindi non riguardi solo aspetti linguistici, ma anche aspetti non linguistici. E hanno fatto alcuni esperimenti che, se chi è interessato, Nicholson e Fawcett, sono due autori. Troverete una bibliografia alla fine per cui avete i vostri riferimenti. Quindi innanzitutto ricordiamoci che se io ho una difficoltà di automatizzazione, una parola chiave è quanto graduale è il percorso a cui io sono esposto, perché per poter arrivare a un livello di overlearning c'è bisogno di una gradualità. E questa gradualità, guarda caso, molto spesso è assente nei libri di testo, ad esempio. Non mi riferisco alla macro gradualità, cioè bene o male che ne so i contenuti linguistici, c'è l'unità 1 che è più facile dell'unità 2. Ma avete mai fatto caso, ad esempio, al fatto che nell'ambito della scrittura, che ne so, si fa leggere un testo, si fa analizzare il testo e poi si chiede agli studenti, adesso scrivi tu un testo simile. Come se questo passaggio dalla comprensione alla produzione scritta fosse così automatico? Mancano una serie di passaggi che sono di livello superiore, la raccolta di idee, la gerarchizzazione, la conoscenza del genere testuale, ad alcune cose di livello molto inferiore che sono ad esempio il recupero lessicale, della struttura grammaticale. Vedete quindi che magari su questi aspetti ci sono veri e propri buchi nei materiali che sono presenti, che utilizziamo magari normalmente. Questo è l'aspetto, diciamo, procedurale. Ovviamente, dicevo, stiamo parlando però di apprendimento linguistico in contesto guidato, cioè noi docenti, voi docenti, avete un ruolo nel guidare questo processo e quindi un'altra dimensione, molto importante, è la dimensione strategica, cioè la capacità dello studente di far fronte ad un apprendimento che non è spontaneo ma è strutturato, è formale. Cosa sappiamo da parte della ricerca? Sappiamo che per una serie di fattori, che spiegherò anche più avanti, alcuni studenti con DSA possono presentare un profilo strategicamente poco sviluppato, cioè concentrandosi molto su aspetti di decodifica o anche di micro aspetti, appunto la decodifica del testo, la memorizzazione della singola parola, a volte presentano un bagaglio di strategie di apprendimento non sempre molto sviluppato, diciamo. Ad esempio, per affrontare un compito di comprensione del testo, non è detto che lo studente abbia sviluppato tutte le strategie di comprensione del testo, in inglese sono le Reading Strategy Awareness, che ti consentono di affrontare i testi difficili. E questo però, diciamo da un altro punto di vista, chi deve insegnare queste cose? Cioè, le strategie di studio, le strategie di apprendimento, le strategie cognitive che servono per imparare una lingua, ma chi le insegna? Sembra che siano questa zona grigia che non è di nessuno, perché sono competenze un po' trasversali, sarebbero competenze che riguardano sia chi insegna italiano, sia chi insegna latino, chi insegna lingue straniere, e rimane un'area grigia del nostro curriculum scolastico che non sembra interessare a nessuno. E quello che accade è che spesso chi non ha queste strategie, se questo si somma ad un disturbo specifico dell'apprendimento, rischia di restare indietro. L'ultimo punto, ecco, gli ultimi due punti di questa panoramica che vorrei affrontare, riguardano un po' anche la dimensione psicoemozionale che si trova a vivere un alunno con DSA. Non lo dico per bonismo, chi mi conosce sa che non sono quel tipo di persona, ma è bene ed è importante sapere che la motivazione non è qualcosa di scritto nei geni dei nostri studenti, è qualcosa che si instaura, che nasce da un'esperienza e sappiamo che, questo per gli studi di neurobiologia delle emozioni, sappiamo che tu puoi fare tutti i discorsi che vuoi allo studente sulla motivazione, ma se questo studente ha avuto esperienze emotivamente negative su un determinato ambito, sarà ben difficile che parlandogli di quanto deve motivarsi, di quanto deve studiare, di quanto deve applicarsi, riusciremo ad avere un risultato. E se si parla di alunni con disturbo specifico di apprendimento, questo è particolarmente vero, perché un disturbo specifico dell'apprendimento non può essere diagnosticato prima della fine della seconda, quindi questo è un bambino che già per due anni non si capisce che cosa aveva. Era un bambino che già per due anni era considerato lento tra i suoi coltanei, poi tra l'altro non sempre si diagnostica un DSA, si riesce a diagnosticare un DSA alla fine della seconda, spesso si arriva anche alle medie, per cui c'è un trascorso, c'è un vissuto emotivo dello studente che lo porta appunto ad emotivarsi e ad avere anche una sorta di ansia linguistica. Ecco, questa è una parola da ricordare, l'ansia linguistica, perché sono stati fatti degli studi su questo, una serie di compiti che generano un'ansia, serie di compiti linguistici che generano un'ansia che impedisce lo svolgimento del compito. Rispetto a questo, una piccola esperienza personale, magari non vi interessa, però perché ho iniziato a studiare queste cose? Non perché avessi cercato la moda, perché era prima della famosa legge del 2010. A me è successo un fatto nel 2007, che molti non sanno, io insegnavo inglese all'Accademia di Belle Arti di Venezia, e mi è capitato, mentre stavo finendo il mio dottorato, di essere avvicinato da un paio di studenti, da due studenti in particolare, i quali mi hanno detto, bene, noi siamo dislessici, quindi non possiamo imparare l'inglese e vorremmo sapere che cosa dobbiamo fare qua. 2007, io non ne sapevo nulla, ammetto l'ignoranza totale rispetto a questo argomento, però avevo la curiosità, questa secondo me è una grande abilità, una grande caratteristica, e con questa curiosità e anche, devo dire, mettendosi in una posizione empatica rispetto a chi ti presenta una questione, ho iniziato ad affrontare questo tema e ho scoperto che in Italia non se ne occupava nessuno. Ma al di là di questo, la cosa che mi aveva colpito era questo, esiste un disturbo dell'apprendimento della lingua straniera? Cioè esiste, perché questi ragazzi arrivano all'università a dire io non posso imparare una lingua straniera, non l'avranno certo imparato sui libri, qualcosa sarà successo nel loro trascorso per cui sono arrivati alla conclusione che non possono imparare una lingua straniera. Quindi questo aspetto che si ripercuote moltissimo in fase di valutazione va tenuto presente. Tutto questo, per chiudere questa prima parte, tutto questo porta all'effetto Matteo. Non mi sto riferendo a politici di nessun tipo, ce ne sono vari Mattei ormai che pullulano, mi sto riferendo a un altro Matteo, San Matteo, che disse, che scrisse, che i poveri saranno sempre più poveri e i ricchi saranno sempre più ricchi. Questo cosiddetto effetto San Matteo è stato studiato in sociologia, ci sono prove secondo le quali chi proviene da un contesto svantaggiato ha meno opportunità di chi proviene da un contesto benestante. Negli Stati Uniti questo è palese ed è, come dire, oggetto di studio. La comunità afroamericana, per esempio, ha degli stadi delle performance che è mediamente inferiore agli standard degli altri, ma perché? Perché per come è fatto il sistema americano, da dove provieni? Questo implica che scuola fai, poi da che scuola fai implica che università fai. Capite che chi è povero è sempre più povero e chi è ricco è sempre più ricco, anche cognitivamente. E questo è stato studiato anche in sociologia dell'educazione e si sa che una serie di alunni che presentano queste fragilità, se queste fragilità non vengono tenute presente nella didattica, portano ad un impoverimento di questi studenti, mentre gli altri andranno sempre più avanti e quindi si crea una forbice. E allora accade, e lo dico, come dire, con empatia, accade che ci poniamo il problema dei DSA alle superiori, come dire, quando questa forbice è enorme o ce l'opponiamo all'università, quando questa forbice anche di apprendimenti linguistici è diventata forse ad un certo punto troppo grande. Quindi l'inclusione inizia molto prima. Questa era una premessa che ci serve per dire innanzitutto quanto complesso è il problema e quindi quello che diremo oggi non vuole essere la soluzione, la ricetta alla soluzione del problema, insomma. Ma ci serve anche per dire che, volendo fare un passo avanti, se noi che ci occupiamo di glottodidattica iniziamo a ragionare sulle due variabili studente e contesto, possiamo iniziare a ragionare su cosa significa costruire un ambiente di apprendimento accessibile, cioè nel quale si tenti perlomeno, appunto tentativamente, di rimuovere o perlomeno aggirare le barriere all'apprendimento che si possono creare in presenza di una differenza evolutiva. Tenendo presente un punto, lo dico a passant perché sarebbe un tema da affrontare in un'intera conferenza, che in ogni caso il profilo di questi studenti non è dato dalla somma di questi punti. Questo è molto importante. Noi tendenzialmente, anche nel parlarci tra di noi, tra esperti, e anche nel parlare con gli insegnanti, tendiamo a dire studente con DSA, a un certo punto la preposizione cade e si parla di studente DSA, a un certo punto cade studente, si parla di DSA, quindi in classe cos'hai? Ho un BES, un DSA, E2, legge 104. Quindi cosa succede? Lo studente è stato identificato per una sua caratteristica, negativa in questo caso, e quindi massima attenzione perché se vogliamo lavorare sul piano didattico, pedagogico, non è mai un buon punto di partenza focalizzarsi solo su un aspetto di un alunno. Questo lo dico a monte, molto importante secondo me per costruire anche una cultura dell'inclusione. Quello che voi vedete qui invece è il modello che abbiamo realizzato con il mio gruppo di ricerca ed è il modello che ci serve a monte per poter iniziare a discutere le variabili che possono incidere in un ambiente di apprendimento linguistico. Chi ha studiato un po' di grotto didattica sa che questi tre punti sono i tre ambiti del poli, come dire, del lato didattico. Sono i tre poli del lato didattico. Da una parte hai uno studente con un bisogno linguistico specifico, dall'altra questo studente vuole imparare una lingua, però accade, e lo studente è sempre a cavallo tra un ambiente informale e un ambiente formale, e accade che però siccome la lingua non è mai una cosa, ma è un insieme di componenti, un insieme di dimensioni, dalle abilità alla competenza socio-pragmatica, alla competenza interculturale, anche la competenza lessicale-grammaticale, accade che alcune delle linee che collegano l'alunno alla lingua, cioè fondamentalmente alcune delle dimensioni dell'apprendimento linguistico, possono essere interrotte. quindi ad esempio se ho un alunno con dislessia, può accadere che ad esempio questa linea che voi vedete qui interrotta, che è la linea della decodifica del testo, è una linea che non si può, come dire, da sola ricongiungere, ma il nostro scopo di insegnanti non è ricongiungere la linea, ma di capire quale supporto, sostegno all'apprendimento possiamo implementare per poter far sì che l'alunno arrivi a qualche forma di apprendimento, tenendo presente la sua caratteristica individuale. Quindi vedete che è una prospettiva non di intervento clinico, ma di inclusione glottodidattica. poi solo per dare una panoramica, poi vado avanti veloce su questo, ma per far capire che poi è molto complesso il tema, quando si parla di costruire un ambiente glottodidattico accessibile, ci sono tantissime dimensioni, ve le lascio così proprio per farle vedere, non le commento, ma è per dire che non basta dare una sintesi vocale a uno studente per parlare di ambienti di apprendimento inclusivo e accessibile. Quello che però vorrei focalizzare è che l'accessibilità della valutazione si colloca qui, cioè è un aspetto micro, non nel senso che è piccolo, ma nel senso che tu devi partire da dimensioni molto più vaste che sono il contesto nel quale è inserito lo studente, quindi l'ambiente fisico e psicologico in cui è inserito, le scelte di fondo che tu fai a livello metodologico, per poi arrivare a costruire percorsi glottodidattici, cioè di apprendimento linguistico, accessibili e di conseguenza percorsi valutativi, coerenti e accessibili. Ovviamente, quindi, stiamo parlando di un aspetto micro senza aver affrontato il macro, ma c'è una bibliografia di riferimento su questo. Ovviamente, però, le cose sono anche collegate, per cui sappiamo che quando sto valutando non posso valutare senza tener conto del livello macro, ad esempio, delle scelte che ho fatto a livello metodologico e non posso non tener conto del contesto in cui è inserito lo studente e quindi, ad esempio, l'ambiente fisico e psicologico. Dico questo perché tra un attimo quando parleremo di adattamenti ritornano questi punti perché ci sono varie dimensioni che si possono considerare nell'adattamento della valutazione. Facciamo quindi un passo avanti e arriviamo quindi a un altro punto. Vedete qua io sto numerando anche i punti che affrontiamo che sono tre. si passa al punto due e il punto due era l'accessibilità della valutazione. Ora, giusto per chiarire visto che poi la letteratura in merito è vasta di cosa stiamo parlando quando parliamo di valutazione almeno qui? Ci sono due termini che si usano nel mondo anglosassone assessment and evaluation quando parlo di assessment questa è la definizione di assessment che ho preso da Overton che si occupa di assessment and evaluation nel caso di special needs di bisogni speciali è quel processo che conduce alla comprensione oggettiva di una condizione che può essere anche una competenza attraverso l'osservazione e la misurazione cioè non o l'uno o l'altro tendenzialmente l'assessment dovrebbe riguardare sia l'osservazione e ne parleremo sia la misurazione e quindi anche prove formali di assessment con evaluation si entra in un altro ambito che è il processo che conduce alla comprensione oggettiva di una condizione allo scopo di determinarne il valore perché evaluation deriva cioè value è la parola centrale no? e per determinarne il valore faccio delle cose cioè o la confronto con altre performance oppure ho degli standard di riferimento che mi consentono di capire che valore ha quella competenza rispetto ad un ad un profilo generalmente anche se come insegnanti spesso so che ci si ritrova più di qua che di qua invece in realtà nella letteratura quando si parla di valutazione scolastica si parla sempre di classroom based assessment e quando si parla invece di certificazione delle competenze quindi le certificazioni linguistiche sì oppure prove diciamo standardizzate allora parlo di evaluation questo è molto importante perché cambia insomma fa la differenza cambia anche le scelte che posso fare in un classroom based assessment in una valutazione scolastica ho molta più libertà di quanta non ne abbia in una certificazione linguistica da un punto di vista delle possibilità di adattamento sempre nella ricerca che viene fatta in questi ambiti ci sono temi scottanti per esempio il rapporto tra equità e validità della valutazione è un tema scottante io ho ripreso Cormonson Smith che sono due punti di riferimento della ricerca proprio linguistica applicata alle difficoltà specifiche di apprendimento potete vedere che loro adottano una posizione secondo cui sappiamo che l'equità vuol dire essere giusti rispetto alle caratteristiche di una persona cioè non fare un test che cioè non valutare quella persona per aspetti che riguardano magari caratteristiche non dipendenti dalla persona per esempio appunto un disturbo specifico dell'apprendimento ha delle caratteristiche per cui se io ti valuto sullo spelling al pari di qualcuno che non ha quella caratteristica individuale sto facendo una valutazione che non è equa il problema è che c'è anche l'altra faccia della medaglia cioè la validità cioè questo test che io faccio che può essere anche adattato alle esigenze del singolo quanto è valido cioè in altri termini quanto il risultato di quel test mi restituisce un risultato di quella prendente comparabile a quello degli altri apprendenti che non hanno quella caratteristica individuale e Cormos e Smith mettono in guardia contro il fatto che molto spesso per cercare di essere equi mettiamo a rischio la validità io personalmente dico che vale anche il contrario a volte per aver avendo paura diciamo di non essere di non dare una valutazione valida non sono equo perché non considero altri aspetti che invalidano in realtà la valutazione per entrare nello specifico e per capire quindi gli esempi e le proposte che si possono fare è importantissimo a questo punto distinguere tra due parole chiave che vedremo tra un attimo che sono accommodation e modification in inglese io le ho chiamate adeguamenti e ristrutturazioni vediamo tra un attimo di cosa si parla prima di andare avanti sicuramente dobbiamo capire che se stiamo parlando di valutazione in contesto educativo dobbiamo riflettere sul fatto che il rapporto tra equità e validità di una prova quando ho davanti un alunno con DSA dipende da alcune variabili innanzitutto quanto quella prova è coerente con il profilo cognitivo linguistico dell'apprendente con DSA prima ho fatto un esempio ho parlato dello spelling un altro esempio potrebbe essere sono abituato per forma mentis a valutare la comprensione del testo attraverso delle domande aperte peccato che molti studenti con DSA presentino varie limitazioni per cui quel tipo di prova non è valida perché perché tu stai usando un'abilità che non è oggetto di test per misurare un'abilità che è oggetto di test il doppio compito fondamentalmente che nel caso dell'alunno con DSA con deficit di automatizzazione è creare una difficoltà che a volte non fa emergere la competenza altro aspetto in ambito educativo dobbiamo anche considerare qual è il supporto che hanno ricevuto gli studenti per arrivare alla prova tutti gli strumenti compensativi le mappe di cui non parlo non parlo oggi se diventano strumenti di apprendimento vuol dire che e come dire però ci sono delle cose che si dovrebbero dire su questo ma nel momento in cui diventano parte del processo di apprendimento e lo studente impara ad imparare attraverso questi strumenti è chiaro che la valutazione che non permette di utilizzare questi strumenti è una valutazione che non tiene conto del supporto che ha ricevuto finora lo studente dopo bisogna ragionare sul singolo strumento io sto dando una indicazione di massima poi bisogna ragionare sul singolo strumento però in termini generali questa è un'indicazione fondamentale infine quanto i risultati che ottengo dal test sono utilizzabili io so per certo che un alunno con DSA presenta un'ansia linguistica lo so per certo lo so per per il come dire per la caratterizzazione che hanno i disturbi specifici dell'apprendimento e quindi so che i risultati diciamo i dati che ricevo da quel test devono essere necessariamente integrati con altre misure che sono ad esempio l'osservazione dopo ovviamente sto parlando di test in contesto scolastico questo lo ripeto meno sempre possibile fare la stessa cosa in ambito universitario chiaramente però è importante questo perché se torniamo alla nozione di assessment queste due parole erano inserite nella nozione di assessment e non c'entravano niente di DSA cioè sono parte della valutazione come concetto bene prima ho anticipato il passaggio successivo che è quello di chiedersi cosa possiamo fare per rendere accessibile un test anche agli alunni con DSA vi farò vedere una serie di possibilità a monte dico una cosa che dal punto di vista della cultura della didattica e della valutazione l'optimum è che si inizi finalmente a costruire test accessibili a monte nell'ottica del si chiama in inglese universal design for learning che è un movimento culturale anche scientifico che si occupa proprio di capire come si possono costruire percorsi didattici che siano universal è la parola chiave l'accessibilità della valutazione quindi l'ideale sarebbe quello di implementare a monte principi di accessibilità nella valutazione sappiamo che per una serie di ragioni anche di ricerca perché devo dire che mentre sulla didattica c'è molta ricerca su questi temi sulla valutazione molta meno devo dire e quindi in questo ambito si tende ancora a ragionare nell'ottica di adattamenti di test per ragazzi che presentano questa caratteristica individuale io mi devo collocare in questo ambito perché vi presento quello che c'è nel quello che è lo stato dell'arte diciamo vi dicevo che ci sono due parole chiave che ho chiamato in italiano adeguamenti e ristrutturazioni queste parole provengono dagli standards for educational and psychological testing che sono un punto di riferimento per chi si occupa di valutazione in ambito educativo e in ambito psicologico e ti danno delle linee guida su alcuni aspetti nell'ambito diciamo nella sezione che riguarda i bisogni specifici bisogni speciali si parla appunto di adeguamenti e ristrutturazioni che cosa si intende fino a poco tempo fa una delle priorità era quello di garantire l'accesso alle valutazioni facendo poca attenzione diciamo a quanto poi questi risultati fossero comparabili con quelli degli alunni che non presentavano un bisogno specifico ora c'è più attenzione invece al rapporto tra equità e validità e quindi si fa questa distinzione terminologica gli adeguamenti le accommodation che sono quelle che tutti possiamo fare con gli alunni con DSA sono modifiche al contenuto o al formato di un test o anche alle condizioni di somministrazione del test che non sono pensate per particolari individui per particolari persone quindi ma non incidono sul costrutto misurato cioè non incidono sulla struttura profonda del test per cui io so che adottando quegli adeguamenti il risultato che proviene da quel test è comunque comparabile al risultato del test non modificato sappiamo anche che in alcuni casi ci sono queste questo tipo di adeguamenti non sono sufficienti e si deve andare anche più in profondità cercando di ristrutturare il test ad esempio io penso tra l'altro che gli insegnanti abbiano molta più libertà di quanto non ne abbia per esempio un centro linguistico anche se il centro linguistico facendo delle ricerche a monte potrebbe anche implementare test più accessibili le ristrutturazioni sono più delicate perché vedete che fondamentalmente sono simili agli adeguamenti però sappiamo che aumentando l'accessibilità del test incidono sul costrutto cioè incidono su quello che vuoi misurare e quindi il risultato non è sempre comparabile allo stesso modo di un di un test che magari non è stato modificato partendo da questa distinzione vediamo cosa si può fare cioè quali sono tutte le opzioni poi ripeto anche un'altra cosa fondamentale in ambito educativo si parla di piano didattico personalizzato e quindi anche la valutazione va personalizzata io vi faccio un quadro non è detto che tutto vada bene per tutti ok partiamo da una cosa base base e cioè le condizioni di somministrazione che non è banale pensando appunto al profilo magari di ansia linguistica che può avere l'apprendente allora due punti fondamentali io posso intervenire su due variabili la variabile tempo e la variabile setting cioè ambiente questo è quello che è previsto cioè che si prevede si possa fare ovviamente la base della base è di dare più tempo generalmente viene indicato un tempo pari al 25 30% in più ma su che cosa? sul totale e questo è invece discrezionale sul totale o sulle singole prove? sulle singole prove se parliamo per esempio di un test linguistico che è fatto di comprensione produzione lessico grammatica è possibile adottare questa prospettiva sulle singole prove questo non è scontato non ci si pensa spesso poi dico una cosa che è come dire che so che a molti non piace però si può anche non dare un tempo lo dico perché in realtà sembra banale a volte il tempo viene dato per motivi puramente amministrativi burocratici cioè ho un'ora di lezione e ti do un tempo per fare quel test o perché io stimo che ci voglia più o meno quel tempo oppure quando sono all'università non è mica che posso dire facciamo esame dalle 9 alle 8 di sera ovviamente però non esiste non esistono dati scientifici che dicano per fare la prova X è necessario il tempo Y e non ci sono prove che quel tempo sia un indicatore di qualità non so se è chiaro questo punto della serie ti faccio fare la comprensione scritta se la fai in mezz'ora sei bravo se la fai in un'ora non sei bravo ci hai messo troppo tempo ecco questa idea del tempo in realtà in valutazione è molto 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 sottile anche perché in realtà il tempo è sempre una variabile culturale non è mai una variabile oggettiva noi siamo una cultura che assegna un valore positivo al tempo quindi quando hai due studenti davanti tutti e due ti danno la stessa risposta se uno studente te la dà più rapidamente e l'altro ci impiega un po' di più mentalmente scatta uno schema che è culturale per cui quello lì è stato più bravo perché mi è sembrato più sicuro e attribuisco un valore positivo alla sua risposta anche se magari hanno detto la stessa cosa e magari l'altro ha studiato anche di più ma in quel contesto altre variabili hanno giocato insomma se poi lavorate con studenti sinofoni cinesi appunto giapponesi sapete che ci sono culture che invece hanno un concetto opposto del tempo per cui velocità uguale superficialità lentezza uguale profondità e quindi nella valutazione lo dico perché non è mai scontato c'è anche il diritto alla lentezza da tenere presente insomma nel senso che la lentezza e la velocità non sono sinonimo di qualità della performance solo questo dopo può essere che in un contesto scolastico debba dare dei limiti pause soprattutto se sto facendo test ufficiali che durano per un certo come dire tempo ovviamente ci sono le pause che posso inserire e poi l'ultima cosa secondo me non banale è il cosiddetto testing diffuso cioè per motivi come dire amministrativi spesso finiamo cioè come dire insegniamo per un lungo periodo e poi facciamo la prova invece in realtà il testing diffuso cioè piccole prove brevi brevi 15 minuti cioè anche quindi brevi a livello di contenuto prove brevi diffuse nel tempo possono darmi un quadro più chiaro della progressione dello studente del suo progresso e anche della performance reale piuttosto che un test fatto una volta al mese e magari ci capita di avere mal di testa quel giorno poi per studenti che hanno difficoltà di memorizzazione emerge di più anche il lavoro fatto perché chiaramente in quel test breve si è preparato magari più degli altri ed ha una performance magari al pari del suo sforzo dello sforzo fatto insomma quindi vedete che il tempo non è assolutamente banale e non c'è solo l'opzione più tempo per quanto riguarda il setting in realtà li metto insieme così li potete vedere in realtà qua come dire qua ci sono delle indicazioni non c'è tutto è criticabile diciamo perché tutto dipende dal contesto test computerizzato non è che sia meglio di quello cartaceo a monte noi abbiamo delle esperienze di di test computerizzati che proprio perché sono test a tempo creano l'effetto contrario per cui tu vai avanti e quando vai avanti non puoi più tornare indietro hai questo timer che ti crea un'ansia pazzesca e quindi fondamentalmente il test computerizzato ottiene l'effetto contrario cioè di aumentare l'ansia linguistica dello studente e di peggiorare la performance quindi il test può essere cartaceo e non computerizzato o se è computerizzato deve essere fatto in un altro modo che tenga conto di questi aspetti di accessibilità di base scusate poi l'aula separata ovviamente non è un'imposizione dell'insegnante o di chi fa il test ma spesso qualcosa che si concorda con lo studente ma che magari si sente più tranquillo a fare il test in un altro momento perché magari non c'è confusione non c'è ansia gli puoi gli puoi stare magari più vicino e dargli più indicazioni anche per se si perde nello svolgimento del test è una scelta ed è una possibilità contemplata dagli standard internazionali per i test psicologici ed educativi quindi non è una cosa che ci inventiamo e infine questa cosa che c'è il fatto che in ambito educativo in Italia non sono frequenti perché non c'è la cultura del take home quiz cioè del fatto che tu insegnante possa dare dei test da svolgere a casa che gli studenti fanno e poi ti portano in classe in altre culture ad esempio quella anglosassone sono la norma e come dire si integrano con valutazioni più formali però danno un'idea di nuovo di un progresso anziché di un testing una tantum one shot test si dice lo fai una volta fai una fotografia e quel che viene fuori viene fuori e se la fotografia viene sfocata quella è allora teniamo presente quindi che solo a condizioni di somministrazione abbiamo tutte queste possibilità cosa possiamo fare invece a livello di interventi sul formato del test ci sono due variabili che si possono manipolare sembra strana questa cosa però qui si può intervenire la presentazione cioè come ti presento il test il formato di presentazione del test e il formato di risposta cioè che cosa ti chiedo di fare con quello che ti con l'input che ti do a livello di presentazione ovviamente una base che è la base della base è di conoscere quali sono le indicazioni internazionali per la costruzione di test basati su layout accessibili esistono delle ricerche fatte su questo vi do come dire un riferimento che poi ritroverete anche la British Dyslexia Association ha fatto una guida stilistica molto interessante che si è basata in parte su una ricerca sul campo di cui trovate il file digitate BDA Style Guide e trovate questo file che ti dà proprio indicazioni BDA Style Guide tra un attimo lo trovate perché vi faccio vedere un esempio e questo BDA Style Guide ti consente di avere delle linee guida per poter lavorare sul layout del test ah dimenticavo io in realtà l'ho tradotto in italiano questa guida stilistica e l'ho trovata in un quaderno della ricerca che vi citerò dopo format di presentazione posso lavorare quindi costruendo layout più accessibili e fornendo un supporto alla decodifica che può essere la sintesi vocale chiaramente questa è una base ma può essere anche qualcos'altro può essere anche un lettore può essere una persona che legge per me possibilmente con un livello tale che consenta di capire quello perché se faccio leggere ad un ragazzo che è a un livello più basso del mio quindi il supporto alla decodifica è un'altra cosa da valutare dato il test e dato il formato di presentazione come posso aiutare il ragazzo ad accedere alle informazioni contenute nel test non solo il supporto alla decodifica lo può fare anche l'insegnante per esempio mettendosi a disposizione se lo studente non capisce cosa deve fare perché non è un obiettivo del test capire cosa devi fare sembra un po' un po' strano no? ma un obiettivo del test non è mai capire le consegne ma svolgere l'esercizio svolgere il compito quindi in ambito educativo una cosa che posso fare è rendere chiaro l'obiettivo del compito dopodiché te lo fai tu il compito se qualcuno mi dirà no però le consegne sono istruzioni bisogna imparare a leggere le istruzioni esistono a livello a due i test regolativi i testi regolativi si lavora su quelli si testa gli studenti su quello non occorre poi ritestarli a tutti i livelli sui testi regolativi che sono appunto le istruzioni dall'altra parte cosa posso fare a livello base come posso aiutare gli studenti nella risposta qui posso ovviamente di nuovo usare strumenti compensativi quindi ho la possibilità a seconda dello studente di inserire strumenti compensativi che però dipendono da cosa viene valutato cioè noi dobbiamo avere chiaro qual è l'obiettivo della valutazione e scegliere conseguentemente lo strumento compensativo ad esempio se so che lo spelling non è oggetto di valutazione posso inserire lo spell checker il il correttore ortografico se lo spelling è oggetto di valutazione devo farmi un'altra domanda che è quella che abbiamo detto prima ma è equo fare un test di spelling a un ragazzo che ha problemi di spelling non è equo non è equo e la validità è la validità difficile da da capire quello è proprio un ambito molto molto scivoloso un altro aspetto non banale è che il formato della risposta che ti dà lo studente può variare come dire se io ho una comprensione del testo posso anche scegliere di dare due o tre formati diversi di possibilità di risposta uno è magari una risposta chiusa un'altra può essere risposta aperta un'altra può essere risposta verbale orale alla domanda cioè si possono fare cose poi dipende anche da cosa posso fare realmente in classe però la possibilità di scegliere tra formati diversi è sicuramente un grande vantaggio ad esempio uno può rispondere rispetto ad esempio ad una un testo narrativo uno può rispondere a delle domande può rispondere a una scelta multipla oppure può abbinare delle immagini che rappresentano il testo narrativo a delle didascalie anche complesse che meglio rappresentano quell'immagine cioè di nuovo sto lavorando sulla comprensione del testo e magari lo studente che non ha un livello di produzione che gli consenta di dimostrare che sa comprendere può svolgere quel compito l'importante è poi avere una griglia chiara che mi faccia comparare i risultati ovviamente ma su questo a scuola spesso ormai si lavora per griglie condivise un ultimo punto non banale la risposta che dà lo studente deve essere anche deve anche tenere presente quello che dicevamo prima se ti ho fatto usare determinati strumenti e hai imparato a studiare con quegli strumenti non te li posso togliere nel momento in cui mi devi dimostrare che hai studiato ma perché questo uno potrebbe dire eh no beh però scusami anche io mi facevo gli schemi da piccolo quando studiavo facevo gli schemi però non potevo portare gli schemi in classe e avete ragione ma lo strumento compensativo non è lo schema è uno strumento che consente di come dire di superare ostacoli che sono la working memory l'analisi fonologica in alcuni casi ad esempio il dizionario la sintesi vocale oppure il la mappa che ti consentono di recuperare informazioni che altrimenti per quella difficoltà per quelle caratteristiche che abbiamo visto prima non emerge quella competenza ok quindi è importante anche questo aspetto da ricordare questi sono interventi di base che si possono fare a prescindere dalla modifica sostanziale del test c'è da dire che in un contesto educativo raramente il test proviene da da Marte più probabilmente proviene da un libro di testo e posso intervenire peraltro ho lavorato con alcune case editrici e so che è ormai prassi fornire degli strumenti che ti danno la banca dati diciamo di test ma anche la possibilità di intervenire per adattarli come vuoi quindi tutte queste cose che ho detto prima possono essere implementate nel test di base che già avete però si possono fare delle cose in più qua andiamo in un altro livello che sono delle lievi ristrutturazioni aggiuntive le ho chiamate così perché vanno già nella logica delle quelle che si avevo chiamato modifications anche se come vedrete sono molto lievi e quindi non necessariamente invalidano il costrutto ad esempio una base che è la base della base in partenza possiamo cercare di selezionare input ed esercizi più accessibili noi in alcune pubblicazioni abbiamo anche categorizzato gli esercizi tipici che vengono proposti per l'apprendimento linguistico e per il testing linguistico a seconda del loro grado di accessibilità trovate una pubblicazione del 2012 ma l'ultima quella del 2017 Supporting Learners with Dyslexia in the ELT Classroom quella pubblicazione di Oxford University Press in quella pubblicazione trovate anche la sintesi di una serie di lavori successivi che sono stati fatti quindi noi sappiamo dalla ricerca che alcuni esercizi funzionano meglio di altri non è come dire un discorso astratto quindi in partenza si possono selezionare input ed esercizi più accessibili sull'input lasciatemi dire una piccola cosa però questa è talmente come dire controcorrente che so che molti non sono d'accordo per esempio pensiamo ad un input come l'ascolto gli ascolti che facciamo fare che sono la base di tutto si trovano nei libri di testo si trovano nelle certificazioni linguistiche però riflettiamo un secondo e spostiamoci dal contesto certificatorio del contesto didattico al contesto reale quanti sono i contesti in cui noi dobbiamo sentire e interagire in una conversazione orale senza vedere la persona che parla questo è qualcosa di rarissimo in lingua straniera è fonte di ansia linguistica anche per me che con l'inglese non insomma lo mastico bene e sono praticamente la telefonata ne devo fare una lunedì con una tipa di Oxford che mi chiama da Londra da Oxford appunto di Oxford University Press e non so vediamo se viene fuori il mio livello reale di inglese la telefonata oppure quell'altra cosa quell'altra situazione che ci mette un'ansia terribile che sono gli aeroporti quando andiamo all'estero e ci sono gli annunci in lingua straniera e tu li devi capire senza vedere la persona che parla senza avere un altro tipo di supporto che è quello extralinguistico allora per esempio non è scritto da nessuna parte che l'input non possa essere anche un input audiovisivo tant'è che per esempio i descrittori del quadro di riferimento europeo distinguono anche i vari tipi di listening c'è anche il listening da audiovisivo perché ha delle caratteristiche particolari e dovrebbe essere anche molto più valorizzato perché è più è più vicino a quello che generalmente uno sente poi c'è anche l'input da live l'input live scusate che è quello da contesto reale ma è molto raro quell'input appunto in cui non si vede la persona che parla mi ricordo all'università per esempio i miei lettori un anno si erano accorti di questa cosa probabilmente e un anno hanno fatto le scenette quindi si sono messi in gioco i miei lettori d'inglese hanno fatto le scenette molto interessante questa cosa perché in realtà ci hanno dato un contesto una simulazione di un contesto all'interno del quale potevamo capire la lingua ovviamente testandoci poi sulla lingua non sul contesto altra piccola altra piccola cosa che può sembrare banale ma un per le difficoltà di working memory e di automatizzazione un compito lungo o un esercizio lungo o anche complesso che non è diviso in fasi tende a portare a un sovraccarico cognitivo e nella maggior parte dei casi anche ad un risultato poco verosimile rispetto a una competenza pensiamo per esempio i compiti come il compito di scrittura di produzione scritta se non è guidato è un compito che rischia di arrivare ad un fallimento molto molto rapidamente per cui si deve arrivare alla produzione libera ma ci si deve arrivare alla fine di un percorso molto lungo quindi segmentare gli esercizi in fasi tra un attimo vedremo un esempio invece dal punto di vista delle risposte cioè nel test questa è la presentazione posso fare queste altre operazioni a livello di risposta posso fare delle altre operazioni posso ristrutturare le consegne ad esempio dando ad esempio sottolineando le parole chiave delle consegne c'è una 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 prassi che è quella di mettere le consegne in eretto è una prassi puramente tipografica non c'è una ragione è puramente tipografica se quella prassi la diciamo modifichiamo e diventa una prassi didattica io posso decidere di mettere in grassetto le parole chiave di consegne un po' più lunghe posso decidere di spezzare consegne lunghe in consegne più brevi posso decidere decidere qua anche qui so che non tutti sono d'accordo di dare le consegne in lingua materna se l'obiettivo se sono a un livello un po' più basso per esempio di lingua e l'obiettivo non è quello di testare la capacità di comprendere la consegna magari a un livello alto no potrebbe essere come dire potremmo ragionarci ma a un livello basso se l'obiettivo non è capire le consegne diamo una consegna chiara magari con un esempio e diamo la possibilità allo studente di fare l'esercizio che ci restituisce i dati perché poi rimane questo elemento anche della validità che come dire a volte rimane un cruccio per chi si occupa di valutazione è che non sai mai se lo studente non ha capito cosa doveva fare oppure non ha la competenza per svolgere il compito io mi sono trovato spesso ad esempio parlo dell'Accademia di Belle Arti ragazzi che avevano già fatto la scuola superiore e mi ritrovavo con questi compiti in cui magari c'era e scegli la risposta giusta tra tre risposte e ognuno faceva quello che voleva c'era quello che cerchiava la risposta giusta c'era quello che eliminava le risposte sbagliate dopo però all'inizio siccome il compito non è mai giusto al 100% all'inizio cerchi di ipotizzi che abbia scelto quella strategia poi a un certo punto vedi che lascia due parole in bianco e ne sottolinea e ne cancella una dice vabbè pensava che le due fossero tutte e due giuste se l'ha dimenticata oppure forse ha segnato quella che per lui era giusta perché avvengono queste cose perché in realtà la consegna non era chiara mai dare una consegna come scegli ma dare una consegna con un verbo operativo cerchia sottolinea cancella un'azione pratica e con un esempio ecco l'altra cosa che si può fare in un contesto educativo è anche quello di accettare modalità di risposte alternative allo stesso esercizio dipende molto dal caso faccio l'esempio della comprensione scritta puoi anche decidere che se le domande sono di tipo referenziale anziché modificare tutto l'esercizio allo studente chiedo di sottolineare la parte del testo in cui è contenuta la risposta è un esempio banale e si dovrebbe invece aprire una parentesi molto più più profonda però che cosa ci dice questo che ci sono vari livelli di intervento varie possibilità non è che le dobbiamo fare tutte le dobbiamo attuare tutte vediamo alcuni esempi che ci fanno capire come come ci si può muovere anche se sono esempi non come dire non così significativi per tutti gli aspetti che ho detto un primo esempio c'era una pubblicazione che si chiama go live una pubblicazione di Oxford University Press per la scuola media e lì sono stati fatti degli adattamenti di test che vanno più nella logica degli adeguamenti che non delle ristrutturazioni e noi ci siamo occupati di dare una consulenza scientifica anche se anche un po' in realtà distaccata perché comunque poi spesso le case editrici prendono la tua consulenza ma poi ne fanno ciò che vogliono e quindi come dire l'abbiamo data senza entrare troppo nel merito però mi è sembrato che alcuni suggerimenti riguardanti quello che vedrete adesso c'è una comprensione scritta fossero stati presi allora qui possiamo vedere non è importante leggere so che si vede non si vede benissimo quello che possiamo vedere qui è che c'è un testo in realtà è un unico testo è un testo di una di una bambina che racconta alcune cose è scritto come vedete in un carattere un po' piccolino vedete che il carattere in realtà il font non è non è con le grazie quindi è mediamente accessibile presenta dei limiti non è tra i più leggibili tra i più font ad alta leggibilità ma non è neanche tra quelli a bassa leggibilità vediamo che c'è il testo qua c'era scritto solo reading comprehension test non c'era la consegna ma c'era il testo e sotto il glossario classico per cui tu a un certo punto vedi una cosa scritta qua devi andare in fondo a vedere cosa significa la parola e poi tornare sul testo mediamente un alunno con dislessia con DSA che ha difficoltà anche di orientamento viso spaziale si è già perso nel momento in cui deve fruire del glossario si è perso ora che cosa si è cercato aspettate non vi faccio vedere gli esercizi ci sono due esercizi la ragione per cui ci sono due esercizi è ignota nel senso che sono due esercizi che semplicemente sì come dire vanno entrambi a testare alcuni aspetti del testo sono classici esercizi di vero o falso di scelta multipla ma la varietà è data solo dalla variabile cambiamo un po' così non si annoia non è una varietà così un po' legata alla motivazione ma non c'è una una motivazione scientifica nel motivo per cui scelgo questo testo questo questo esercizio oppure un altro e questo è un problema perché anche saper fare certi esercizi implica automatizzazione quindi se io ti cambio esercizio ti cambio formato e tu devi passare da una da un tipo di di lavoro a cui sei magari ti sei abituato ad un altro tipo di lavoro che puoi in realtà inficiare sulla comprensione perché sono due esercizi diversi ma non c'è una ragione glottodidattica per cui siano diversi cosa si è fatto e vedrete che quello che si è fatto è anche molto banale però rientra nel quello che si diceva prima innanzitutto è stato cambiato il font sono state utilizzate le è stata utilizzata vedete la BDA Style Guide a livello di indicazioni di accessibilità è stato fatto un intervento semplice cioè un tipo di esercizio che si ripete e questa è solo la prima pagina perché ovviamente usare font ad alta accessibilità significa aumentare lo spazio del testo ovviamente quindi è più lungo è stata fatta anche una scelta quella di inserire le parole all'interno del testo cioè le parole come dire sconosciute anziché metterle in glossario sono state messe dentro il testo e poi è stata fatta una scelta un po' ardita nel senso che questo va già nell'ottica delle ristrutturazioni cioè visto che è un testo formativo e voglio vedere la capacità dello studente di comprendere le informazioni e analizzando il test vedi che sono informazioni referenziali tenendo presente la difficoltà di work in memory che fa sì che devi decodificare capire cosa è decodificato riflettere su cosa è decodificato poi leggere le domande riflettere sulle domande rispondere alle domande cercare la risposta rispondere è più funzionale in un'ottica formativa spezzare il compito quindi vi ricordate segmentare il compito in fasi questa è una segmentazione quindi segmento la lettura in parti e associa ad ogni parte un esercizio di comprensione riducendo così non il carico complessivo di lettura ma il carico diciamo parziale di lettura questo è un altro esempio tratto dal tedesco che è presente in questo quaderno della ricerca che vi dicevo contiene le informazioni della BDA tradotte in italiano qua è stata fatta una cosa un po' diversa a livello di impaginazione e altrettanto interessante secondo me è per vedere come si possono gestire alcune variabili allora qui per esempio il testo è completo e le domande sono in parte ma sono in corrispondenza dei paragrafi quindi comunque uno legge risponde torna indietro riesce a navigare in questa struttura e in più si utilizza la colonnina di sinistra per le parole difficili utilizzando la codificazione cromatica come strategia per cui il ragazzo trova nel testo una parola colorata e sa che a sinistra ne trova la traduzione per evitare così l'uso di numeri di asterischi vari che sono impedimenti in realtà questi sono esempi di adeguamenti alla comprensione del testo che vedete vanno più nella prospettiva degli adeguamenti con qualche sconfinamento sulle ristrutturazioni verso le ristrutturazioni un altro esempio la segmentazione del compito e vi faccio vedere un esempio tratto dallo spagnolo che secondo me è molto significativo di tante cose che ci siamo detti questo è un testo del biennio superiori di spagnolo qua devi utilizzare qua è interessante leggere la consegna innanzitutto consegna di tre righe attenzione all'ordine all'ordine delle informazioni il primo è come cioè non il cosa ma si parte dal come utilizza le quattro vignette le parole utili le quattro vignette quindi le parole utili e la tua creatività per scrivere un cosa è successo a Carlos durante il fine settimana cioè l'obiettivo viene dato dopo prima devi capire come poi il cosa poi anche qualche indicazione di narrare al preterito perfetto e scrivere un testo di 10-12 righe questo è un esempio innanzitutto di consegna lunga che va segmentata ma il compito stesso si può segmentare cioè questo compito che è una produzione scritta di 10-12 righe ecco io posso arrivare a quel compito anche attraverso delle fasi e vi faccio vedere una proposta di lavoro in fasi vedrete che le consegne sono in italiano ma su questo insomma potrebbero essere anche in spagnolo non è questo il focus sono tre fasi tre passi allora innanzitutto passo 1 guarda le immagini e trova le parole perché non era neanche scontato che si riuscisse a capire quelle parole a cosa si riferissero quindi primo passo è il classico abbinamento parole e immagini cerchi un attimo di capire quali sono gli item lessicali necessari per poter descrivere quel testo passo 2 cosa è successo a Carlos scrivi una didascalia per ogni immagine cioè scrivi una frase per ogni immagine in cui scrivi cosa è successo a questo povero Carlos nel passo 3 sotto ogni descrizione aggiungici un'informazione per esempio e poi Carlos era anche molto contento oppure poi si vede che sta correndo non lo so adesso sto dicendo delle cose così al momento ma fondamentalmente se voi sommate tutte queste queste fasi il compito finale è lo stesso perché il ragazzo arriva comunque a scrivere un testo di circa 10 righe solo che non c'è arrivato come dire dalla fine ma dall'inizio facendo un passaggio diviso in tre fasi questo è un esempio di segmentazione del compito dove io arrivo allo stesso risultato ma guido il ragazzo guido lo studente ad arrivare a quel risultato ora vedete che siamo già nella fase 3 sto già introducendo alcune esemplificazioni alcuni alcuni commenti io avrei un'altra decina di minuti in cui posso proporre altre considerazioni poi c'è spazio appunto per domande dubbi osservazioni però mi interessa appunto un po' il percorso siamo partiti da descrivere seppur sommariamente le caratteristiche degli apprendenti con DSA pur sapendo che stiamo facendo generalizzazioni abbiamo parlato di possibilità di rendere più accessibili le valutazioni e abbiamo visto alcuni esempi avrete visto però che per ora ci stiamo concentrati sulla valutazione formale cioè il testing fondamentalmente che tipo di interventi posso fare per rendere più accessibile il testing non c'è solo questo esiste anche la valutazione informale vi ricordate che parlavamo di osservazione e misurazione e sono due variabili dell'assessment ok e non c'è una senza l'altra almeno secondo la definizione esistono possibilità soprattutto in ambito educativo di affiancare una valutazione qui e ora con una serie di strumenti che mi danno l'idea di come procede il percorso educativo dell'alunno allora qui trovate tre esempi ovviamente osservazioni di performance magari in contesto ecologico io credo molto in questa cosa il contesto ecologico cioè non è che sono non la raccolta differenziata ma il il fatto che il contesto ecologico vuol dire la competenza che emerge nel contesto naturale non nel contesto laboratoriale o assettico di una certificazione o di una di un test quindi per esempio molte produzioni degli studenti nel contesto ecologico che è la la didattica la classe quello che fanno durante le attività che noi gli proponiamo a volte sono molto indicatrici di quanto lo studente sta realmente imparando a livello di competenza perché magari non sa che è valutato e non c'è l'aspetto dell'ansia linguistica no allora osservazioni di performance cosa si può fare ci sono le schede aneddotiche io posso raccogliere degli aneddoti schede aneddotiche ce ne sono a Iosa e molti strumenti della ricerca azione sono strumenti che si possono usare anche per integrare le valutazioni formali con valutazioni informali la scheda aneddotica cosa fa questa è pensata per un per un bambino la scheda aneddotica ti consente di raccogliere degli aneddoti che accadono in classe o anche fuori dalla classe in cui l'alunno usa la lingua in un contesto in cui non sa che è valutato e magari scopri che sta usando costruzioni linguistiche che magari in un test oggettivo tra virgolette formale che però è una prova metalinguistica non sono non risultano emerse magari perché magari non conosce che cos'è il present perfect piuttosto che il simple past però magari li sa usare in quel contesto magari non sa bene come e quando però in quel contesto magari l'ha usato bene io premerei l'alunno che sa usare bene il present perfect piuttosto che il simple past rispetto a un alunno che mi sa fare l'esercizio a macchinetta io dico cioè quello fa l'esercizio senza neanche guardare cosa c'è prima cosa c'è dopo e dopo durante un'interrogazione neanche sa specificare due parole questa è una scheda aneddotica c'è la possibilità con il portfolio di far raccogliere agli studenti materiali di cose che fanno ad esempio project work attività di gruppo che fanno materiali che anche le loro produzioni scritte fagliere raccogliere appunto attraverso attraverso dei portfolio che comunque poi vengono considerati ai fini della valutazione finale oppure l'autovalutazione vado veloce su questo ma l'autovalutazione è la possibilità di cogliere le percezioni degli studenti rispetto alle loro performance questo non è un dato oggettivo rispetto alla loro performance però è molto indicativo in ambito glottodidattico in un percorso glottodidattico può essere molto indicativo di come cambia la percezione dello studente rispetto alla propria capacità un alunno con DSA ha tipicamente un senso di autoefficacia basso e a volte per la teoria dell'attribuzione tende ad attribuire i suoi successi al caso o all'insegnante buono e i suoi fallimenti a se stesso riuscire a cogliere come cambiano queste percezioni è un dovere etico non è un qualcosa in più perché queste cose incidono anche su come io posso interpretare certi risultati magari il 5 diventa un 6 però cambia molto lo sforzo poi dello studente la sua autopercezione e quindi quel 6 ha un valore diverso che devo restituire allo studente perché è un 6 magari matematicamente ma può essere anche un 8 dal punto di vista invece del progresso dello studente rispetto al suo rapporto con la disciplina un ultimo punto che volevo affrontare è il tema del feedback cioè noi stiamo parlando di valutazione però a volte la valutazione si riduce ad una consegna ecco di risultati una restituzione di risultati in realtà in un'ottica educativa e io credo anche che questo sia riguardi anche l'università perché comunque è istruzione higher education quindi è un'educazione superiore quindi la chiamiamo istruzione e le diamo un valore diverso ma comunque sono giovani adulti che sono in formazione e quindi il risultato di una prova va restituito e va fornito un feedback su quel risultato ed eccovi che vi faccio vedere un quaderno come dire una produzione scritta e come dire corretta da due insegnanti diverse questo è un lavoro che abbiamo fatto con l'Oxoteach Academy dove è stato prodotto un corso online per insegnanti di lingua e praticamente anche se non si vede il contenuto vi dico due o tre cose importanti è la stessa produzione l'abbiamo fatta correggere a vari insegnanti e abbiamo preso un po' di esempi allora parto dall'insegnante B che è l'insegnante che tutti abbiamo avuto fondamentalmente è l'insegnante che corregge tutto corregge tutto offre la risposta allo studente corregge veramente tutto a parte la penna rossa non faccio poi questa cosa della penna rossa ma alla fine si limita a dire bene la prossima volta usa il spec checker usa il correttore ortografico così mi risparmi un po' di problemi questo non è un feedback costruttivo questo non è un feedback e ha diversi tipi di problemi il primo problema è che correggi tutto e questo vediamo tra un attimo che non è un buon criterio in un'ottica formativa e il secondo punto è che non offre non offre soluzioni in realtà a breve a medio termine per migliorare la tua performance perché non è che usando il correttore ortografico risolvi tutti i problemi l'altra insegnante invece ha scelto innanzitutto di non correggere tutto dovrebbe vedere nel dettaglio però per esempio io ho notato che non ha corretto i tempi verbali ci sono vari errori nei tempi verbali ha deciso di non correggere la distinzione tra il simple past e il present perfect cosa ha fatto? si è concentrata su alcune cose ricorrenti allora ha corretto principalmente alcuni aspetti di sintassi facendo notare alcuni l'ordine di alcuni elementi e quindi ha corretto alcuni problemi ricorrenti inoltre non ha corretto proprio tutto ma ha segnalato molto e attraverso una leggenda ha fatto notare allo studente che c'è qualcosa da cambiare ma non non gli ha detto esattamente cosa deve cambiare gli ha dato degli input per esempio gli ha detto qui c'è un problema con gli articoli riguardati questa parte ok e poi ha fatto un altro lavoro secondo me interessante è andata a prendere cinque parole che trovate anche scritte così e le trovate segnate così cinque parole in cui c'era uno spelling sbagliato ma sono cinque parole estremamente ricorrenti per esempio because very which little e gli ha detto tieni presente queste queste parole ok di tutte quelle che erano sbagliate perché è importante questo ragionamento perché c'è un come dire c'è una logica formativa nella valutazione e nel feedback che io restituisco allo studente allora il focus della correzione deve essere doppio da una parte il focus sull'uso e noi sappiamo da un punto di vista normativo che si suggerisce di valorizzare usi corretti anche usi appropriati anche in presenza di errori formali questo in particolare per gli alunni con DSA io comunque suggerirei di concentrarsi su questo aspetto perché non è banale e adesso ho messo due punti che possono sembrare banali perché quando si parla di uso poi sembra sempre che sia una cosa del tipo ma si si fa capire non si fa capire in realtà l'efficacia pragmatica l'efficacia comunicativa sono codificate a livello linguistico cioè dalla linguistica sono e dalla sociolinguistica dalla pragma linguistica sono codificate ad un livello molto alto per cui in realtà io posso valutare l'efficacia pragmatica di una performance e l'efficacia pragmatica non è una cosa che non c'entra niente con la lingua ne parlavamo prima con i colleghi ad esempio la la base della base cioè come stai bene grazie questa cosa per cui noi come insegnanti tendiamo a proporre questa equazione tra come stai e how are you che è una equazione puramente di costruzione puramente grammaticale ma non è un'equazione pragmatica perché gli usi di how are you e di come stai sono diversi visto che siamo verso la fine faccio un esempio simpatico mi è capitato di andare spesso negli Stati Uniti un po' per viaggi un po' per anche per piacere personale e le prime volte mi stupiva sempre quando andavo al supermercato e c'era la la cassiera che mi salutava diceva hi how are you ma neanche mi guardava in faccia diceva hi how are you e passava i prodotti e non sapevo cosa risponde fine thanks oppure oh yes ero sempre un po' ero sempre un po' interdetto oppure anche la commessa dei negozi hi how are you may I help you e questa cosa è significativa perché nessuna commessa in Italia si permette di venire a dirti salve come sta sta bene perché perché come stai in Italia pragmaticamente è una domanda che apre un turno conversazionale apre una conversazione in inglese è un saluto fondamentalmente e quindi cosa succede che le commesse italiane si guardano bene dal chiederci come stiamo perché potrebbe succedere di tutto alla domanda come stai si risponde sapessi che giornata oggi è un maltempo con i ritardi del treno e quindi una banalità come questa fa capire che lingua e pragmatica sono strettamente collegate chiudo invece concentrandomi su alcuni aspetti della valutazione della forma abbiamo parlato dell'uso ma la valutazione della forma e torniamo quindi a cosa hanno fatto quelle due insegnanti prima valutazione della forma la prima cosa da fare è distinguere l'errore di spelling dall'errore di grammatica pur consapevoli che lo spelling specialmente in inglese ma poi in realtà in tutte le lingue è come dire a volte usato per codificare la grammatica ad esempio l'alternanza forget forgot chiaramente e quello è un caso in cui va segnato l'errore ma va anche segnalato ai fini dello studio e forse non va penalizzato subito perché potrebbe essere benissimo un errore dovuto allo spelling come la S della terza persona queste S che mancano tenere presente questo nel momento in cui trovo l'errore di spelling devo tenere presente due criteri l'apprendibilità e la significatività apprendibilità vuol dire che se io corrego tutti gli errori non do la possibilità allo studente di concentrarsi su quei due tre errori apprendibili che lo fanno proseguire diciamo nell'apprendimento e quindi tenere presente sicuramente questo aspetto non tutto è apprendibile e la significatività cosa vuol dire vuol dire che poi se trovo errori che sono legati a parole d'uso comune ovviamente quelli sono aspetti da tenere in considerazione ad esempio have o get che sono la base poi per costruzioni più complesse io trovo spesso studenti che hanno errori in quella in quella parte ad esempio faccio vedere questa è una produzione e trovo cose di questo tipo a volte dove si attaccano le parole no have my name is oppure qua c'è movie senza s sono parole che si ritrovano nelle produzioni degli studenti queste vanno segnate perché sono chiaramente parole magari non necessariamente valutate ma segnate e ci va fatto un lavoro perché sono una base su cui poi si costruisce competenza più complessa per esempio il present perfect oppure altri aspetti appunto della morfologia che cosa possiamo dire come sintesi rispetto anche a questo ultimo punto del feedback la valutazione vedete è qualcosa di molto complesso non si risolve in un dialogo diciamo di un monologo anzi di un'ora e mezza sicuramente ci sono varie fasi c'è una fase in cui chi costruisce il test può intervenire direttamente e ci sono delle linee guida per farlo abbiamo fatto qualche esempio no poi abbiamo visto anche che oltre alla costruzione del test quindi del test informale ho una serie di altri strumenti che possono aiutarmi a mettere come a raccogliere altri dati che mi diano una fotografia più chiara della competenza dello studente ed infine l'ultimo punto che secondo me è fondamentale in un'ottica educazionale è che la valutazione essendo formativa è anche una restituzione e quindi abbiamo fatto un discorso sul feedback l'ultimo punto è che chiaramente con questo concludo questo tipo di lavoro anche sul feedback diventa sensato nel momento in cui poi lo studente si costruisce degli strumenti per lavorare da solo sulle sue lebolezze quindi per esempio checklist di difficoltà checklist di errori frequenti che poi lui si controlla da solo perché sa che li fa questo è un ottimo strumento compensativo oppure leggende condivise condividiamo che abbiamo cinque colori usiamo questi cinque colori per indicare le parti del discorso non lo so e usiamo questi cinque colori per segnare insieme quali erano magari gli errori e poi tu usando la leggenda ti autocorreggi questo è il senso della valutazione in ambito scolastico e sicuramente mi viene da chiudere dicendo che è una grande occasione cioè è un'occasione un'occasione perché gli alunni con DSA pongono domande che forse non ci saremmo fatti che forse non ci facciamo perché diamo per scontato che la pratica sia così in realtà emergono questioni che se ci fate caso e ripercorrete quello che ci siamo detti riguardano i DSA fino a un certo punto e poi in generale riguardano proprio il costrutto della valutazione educativa e linguistica in generale allora con questo innanzitutto vi ringrazio per l'attenzione e c'è uno spazio per domande per cui sono qui a disposizione grazie grazie